Sono Ginevra, dell'Agenzia Immobiliare Tosca Agency, con sede a Castelfiorentino, in via Masini 103A. Grazie alla nostra esperienza ventennale di attività, conosciamo molto bene il mercato in Val Belza. Siamo specializzati nella vendita di immobili residenziali e commerciali in tutta la Toscana. La nostra missione è quella di connetterti con l'immobile dei tuoi sogni. Ci occupiamo noi di tutto l'iter burocratico che acquistare o vendere casa comporta. Tu non devi pensare a niente, devi solo goderti il viaggio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!